Eccoci qui, eccoci qua, loro, il trio Medusa, il trio Medusa che viene da dove? Vicino al microfono ragazzi, da dove venite? Montisola! Grandi, così carichi, voglio sapere anche il vostro anno! 93! Fantastico, e iniziamo da lui, nome? Michele! Simona! Giulia! Ok, Michele, Simone, Giulia, classe 93 Montisola, allora dimmi subito un tuo hobby o una delle tue passioni? Fotografia! Ok? Ballo! Ballo cosa? Tutto! Tutto, poi? Lettura! Lettura? Ti piace leggere, ok! Allora, siete pronti a cantare ragazzi? Siete pronti a cantare? Sì! Ok, vai! Lo strano percorso, Max Pezzali! C'è un tempo per i baci sperati, i desiderati, tra i banchi della prima vita, occhiali grandi, sempre gli stessi, un poco trospessi, per piacere ad una così. Nell'ora di lettere, guardando la riflettere, sulle domande, tra l'anello della pro, non cascarci amore, no. C'è un tempo per i primi sospiri, tesi e insicuri, finché l'imbarazzo va via, coi gesti lenti, dai suoi menti, coi gesti lenti, conosciuti solo in teoria. Come nelle favole, fin sopra dalle nuvole, convinti che quell'istante durerà, da lì all'eternità. Lo strano percorso, di ognuno di noi, che in anche un grande libro, un grande film, potrebbero descrivere, ma... Lui Montisola! Un bello piccato, è imprevedibile, la classe 1993! Per quanto è un solto può cambiare, e niente resta con me. C'è un tempo per il silenzio assenso, solito e denso, di chi argomenti ormai non ne ha più. Frasi già dette, già riascoltate, in mille puntate, di una sofera alla tv. Sarà l'abitudine, sarà che sembra inutile, cercare tanto alla fine, tutto qui, per tutti è tutto qui. Lo strano percorso, di ognuno di noi, potrebbero descrivere mai. Per quanto è complicato, è imprevedibile, per quanto in un secondo tutto può cambiare, e niente resta con me. C'è un tempo per qualcosa sul viso, come un sorriso, che non c'era ieri e oggi c'è. Sembrava ormai lontano e distante, perso per sempre, invece è ritornato con te. Con te che fai battere, il cuore che fai ridere, il tempo per tutto il tempo che verrà, nel tempo che verrà. Lo strano percorso, di ognuno di noi, che in anche un grande libro, un grande film, potrebbero descrivere mai. Per quanto è complicato, è imprevedibile, per quanto in un secondo tutto può cambiare, e niente resta con me. Fatevi un applauso, il trio Medusa, loro sono la classe 93, con una sola targa, targato a Montisola. Grazie a tutti.